Musica Ben trovati, ben trovati da Paola Sartore anche questa settimana in Dal Campo alla Tavola. La trasmissione è realizzata in collaborazione con la CIA di Padova che ci permette di conoscere meglio il mondo dell'agricoltura e non solo, non solo in senso stretto. Oggi è tornato a trovarci il presidente della CIA di Padova, Claudio Dascagno, presidente ben trovato. Servi Paola. E oggi, dicevo, mondo dell'agricoltura non solo e non solo sempre dalla solita prospettiva consueta, perché oggi vogliamo affrontare un tema un po' particolare, che ha un nome particolare, si chiama Carta di Matera, una carta che la CIA sta assumendo un po' in tutte le sue realtà provinciali, anche la CIA di Padova l'ha fatta propria e intanto vediamo di capire che cos'è la Carta di Matera. Intanto il nome deriva da un'occasione speciale, abbiamo la nostra ultima festa dell'agricoltura, sono feste itineranti, nel 2006 è stata anche a Padova, è stata svolta a Matera, la città dei Sassi. In quell'occasione abbiamo convenuto di stilare una nuova carta di principi, su questi principi far aderire la società. Primi tra tutti nella società gli enti locali, che noi riteniamo i soggetti più vicini, sia dal punto di vista ideale, ma anche dal punto di vista pratico, sono quelli che insieme a noi di fatto sono sul territorio. Sono operativi. Esatto, sono i soggetti che possono meglio affrontare e comprendere le problematiche che noi abbiamo indicato. Quali sono i punti sostanziali della carta, quelli che ritenete veramente importanti per creare anche un'opportunità nuova per il mondo dell'agricoltura e anche un'armonia maggiore nella nostra vita quotidiana in tutte le sue componenti? Cioè la carta parte da un assunto. Nel futuro c'è bisogno di più agricoltura. Quindi questo è un elemento fondamentale. Se non si comprende questo, credo non si è preparati a gestire meglio il nostro futuro, ma quello del mondo, credo. Ci sono degli elementi incontrovertibili. Il primo, ancora oggi noi sappiamo che nel mondo ci sono milioni di persone che hanno bisogno di cibo, che normalmente non riescono ad avere un'alimentazione minima, sufficiente. Oltre questo sappiamo che c'è la crescita economica dei paesi che una volta erano considerati paesi o poveri o comunque non al livello delle comunità europee o quelle più avanzate. Anche queste, con la crescita economica, stanno richiedendo più cibo. C'è poi una evidente riduzione delle scorte, quindi necessità di assicurare meglio la capacità di alimentare una nazione. Ultima, anche se non ultima come problema, è quella dei fattori climatici che spesso incidono in aree produttive, mettendo in crisi a volte i mercati. Partendo da questo, nel futuro c'è bisogno di più cibo, abbiamo impostato un po' la nostra carta. Quindi per avere più cibo bisogna avere un'agricoltura del futuro più forte, particolarmente quella italiana, nel nostro caso, perché noi naturalmente ci interessiamo di quella italiana e poi di quella padovana. Per far questo c'è bisogno di portare l'agricoltura di oggi al domani in condizioni ottimali. Quindi è una carta che promuove una nuova cultura dell'agricoltura e anche una nuova etica, in qualche modo, dell'agricoltura. Non c'è dubbio che c'è bisogno di etica anche in questo settore. L'esasperazione che c'è sui prezzi a volte può costringere a delle scorciatoie in termini di produzione. Questo alla fine può diventare negativo, però soprattutto per i consumatori. E oltre questo c'è il fatto che il futuro ci riserva come Comunità Europea nuove richieste. L'agricoltura europea dovrà essere un'agricoltura che oltre all'alimentazione deve anche fornire i cosiddetti beni sociali. Cioè risposte nuove in termini di energie alternative, di clima, di benessere animale. E tutta un'altra serie di cose che prima c'erano, erano a color l'ario, però non erano essenziali. Oggi la Comunità Europea per il futuro, per la nuova politica, ci chiede di fare di più. Se pensiamo poi all'impegno che l'agricoltura normalmente mette in termini di salvaguardia ambientale, penso soltanto l'aria, di salvaguardia idraulica. Noi sappiamo benissimo che un terreno agricolo, se rimane tale, praticamente quando piove manda solo il 20% dell'acqua nei canali. Un terreno edificato manda l'80%. Quindi significa uno squilibrio. Evitare problemi e rischi idroecologici. Il futuro deve essere un territorio in equilibrio, dal punto di vista anche della sicurezza. Chiaramente si spiega con quello che lei ha detto perché gli enti locali diventano essenziali per la promozione dei principi della Carta di Matera. Perché sono gli enti locali che hanno in sostanza la gestione del territorio e la possibilità di promuovere questa nuova cultura dell'agricoltura. Credo sia per lei un impegno notevole, perché questo significa andare a parlare con i sindaci. Questa è un po' la mission che mi aspetta negli ultimi due mesi. Indubbiamente anche però c'è un aspetto interessante perché comunque parlare con le persone, parlare con i sindaci, comunicare quelle che sono le nostre necessità, ma raccogliere anche la condivisione che ho trovato già. Ecco, quindi c'è sensibilità. Devo dire che rispetto a questo tema i sindaci sono assolutamente d'accordo. Semmai a volte c'è un po' di difficoltà nell'affrontare i problemi perché si dice ma su questo non riusciamo più di tanto a incidere. Perché? Perché ci sono elementi che non derivano da noi ma da cose più grandi di noi. Però noi siamo convinti che molto si può fare e su alcuni punti in particolare noi invitiamo i sindaci ad essere concreti insieme a noi. Ecco, quali sono in particolare? Anche perché il territorio padovano magari ha delle peculiarità che richiedono attenzioni specifiche? Sì, prima di tutto riportare al centro dei ragionamenti l'agricoltura. Nel senso che noi veniamo tutti dall'agricoltura. Il mondo è nato dall'agricoltura. Nel tempo si è perso un po' la centralità. Lo vediamo anche se facciamo delle manifestazioni. Si fa in nome di un prodotto agricolo, poi si vede che l'economia intorno è tutt'altro ormai che agricola. C'è tutt'altro interesse. Però c'è stato uno sviluppo. Bisogna saper mantenere, saper ricordare, porre ancora al centro, la valorizzazione dei prodotti, la tipicità. Perché poi questo diventa anche offerta, oltre che culturale, offerta per il turismo. Un richiamo per i visitatori. Questo dal punto di vista semplicemente produttivo. Ricordiamo che noi abbiamo la migliore agricoltura europea, che significa la miglior mondiale. Più prodotti DOP, più vini di origine controllata. Quindi abbiamo una grande qualità che dobbiamo saper difendere. Ecco, ha detto una cosa giustissima. Dobbiamo saper difendere, perché anche a livello europeo non c'è questa sensibilità in effetti. È proprio una questione di difesa, anche se sembra brutto dover dire ci dobbiamo difendere. Però è quello che accade. Dobbiamo saper salvaguardare quelle che sono le nostre peculiarità e portarli avanti. Certo, noi abbiamo tante normative quando dobbiamo produrre. Non abbiamo spesso le stesse norme per quando dobbiamo importare prodotti dall'estero. Mentre i nostri prodotti che vanno all'estero e che sono vincenti e sono copiati, purtroppo non sono abbastanza difesi. Perdiamo 60 miliardi di euro. Dicevo, un altro punto fondamentale con il quale condividiamo la nostra missione con gli enti locali, con i sindaci, è la salvaguardia del territorio. Allora, il territorio nel Veneto è stato consumato abbastanza. Siamo praticamente, sopra di noi c'è soltanto la Lombardia come consumo del territorio. Poi ci siamo noi, ben oltre la media nazionale. Quindi bisogna assolutamente, non bisogna congelare tutto, ma sicuramente bisogna limitare l'erosione. Nel senso che prima di tutto vanno recuperate quelle cose che si sono già sprecate. Se abbiamo, diciamo, cose che nel passato abbiamo costruito non più utilizzate, bisogna da lì partire per recuperare. E poi avere appunto una visione più cauta, perché non abbiamo più tutto questo spazio da disperdere. Altrimenti andremo a rischio di un equilibrio sicuramente instabile. Sempre più compromesso. Abbiamo ancora un minuto. Velocemente, quindi, noi siamo disponibili a dare nuovi servizi come agricoltura. Richiamo soprattutto quelli legati alle fattorie sociali, cioè posti dove persone con difficoltà, con endica, possono risiedere giornalmente, anziché stare in istituti a volte che sono tetri. Penso agli agriasili, penso alle fattorie didattiche. Noi chiediamo ai comuni una maggiore semplificazione, l'attivazione degli sportelli unici. Siamo disposti a collaborare nella gestione del verde pubblico, delle emergenze in caso di calamità. Quindi l'agricoltura può dare e deve ricevere. Io credo che questo, se viene fatto in maniera bilanciata, può portare sicuramente un futuro rosio per la nostra provincia di Padova e credo per tutta l'Italia. Mi sembra di capire che questa sensibilità da parte dei primi cittadini ci sia, quindi speriamo che il cammino per l'attuazione dei principi della Carta di Matera sia davvero agevole. Non in salita, in piano, tranquillo, una passeggiata le auguriamo, Presidente, in questo senso. Grazie per averci fatto compagnia. Grazie a lei, Paola, grazie a tutti. E con Dal Campo alla Tavola noi ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie a tutti.